Sono profondamente rammaricata per l'epilogo della vicenda. La nostra domanda sarà disattesa senza plausibili spiegazioni. Non ha nascosto la sua irritazione il ministro della giustizia Anna Maria Cancellieri dopo il rilascio delle autorità di Panama e l'immediato rimpatrio negli Stati Uniti di Robert Seldon Lady, il capocentro della CIA, mente del sequestro di Abu Omar. Lo 007 era stato bloccato dai panamensi al confine con il Costa Rica e l'Italia aveva immediatamente chiesto il fermo temporaneo, primo passo per procedere poi a una richiesta di estradizione. Da Panama però fonti del ministero degli esteri locale avevano fatto sapere che la documentazione giunta dall'autorità italiana era insufficiente e questo, unito al fatto che Panama non ha un trattato di estradizione con l'Italia e ha ottimi rapporti con Washington, aveva fatto sì che Bob Lady potesse essere riconsegnato agli Stati Uniti. Una ricostruzione contestata dal ministero della giustizia che ha replicato sottolineando che la richiesta di fermo provvisorio per Lady è stata inoltrata tempestivamente, visto che la guardia sigili aveva provveduto a firmarla subito da Vilnius, in Lituania, dove si trovava per incontri bilaterali, non appena si era saputo della cattura dell'ex agente e da lì aveva poi fatto inoltrare l'istanza. Ma soprattutto, ed è questo un punto chiave, i panamensi non avrebbero inoltrato alcuna richiesta all'Italia per un necessario supplemento di informazioni, ritenendo dunque completa e sufficiente quella documentazione. Ora la frittata è fatta ed è un altro schiaffo al nostro paese sul fronte della politica estera dopo il caso Kazakistan, oltre ad essere l'ennesimo caso tra Italia e Stati Uniti.